L'aumento dei costi energetici che va dal gasolio, energia elettrica e gas in questi ultimi 6-7 mesi, il conflitto bellico ha avuto un rialzo esagerato. Le aziende non ce la fanno più e io lo posso confermare da presidente di un'associazione categoria che gruppa più di 1200 aziende, è un continuo. Noi stiamo assistendo a rincari di 10 volte rispetto all'energia elettrica, un 20-30% per quanto riguarda il carburante, altre 10 volte per quanto riguarda il GPL e il metano. Ci sono molte aziende che come fattore produttivo non sono particolarmente energivore in tal senso ma utilizzano il gas e il GPL per i loro processi produttivi e anche loro non ce la fanno più. Si sta verificando anche un'altra cosa esagerata, da alcune aziende viene richiesto per soprattutto quelle particolarmente energivore e non parliamo qui di colossi, parliamo anche dell'azienda che fa 20.000 euro al mese di consumi energetici in termini di bolletta e di importi da pagare viene richiesta adesso la fiduzione bancaria per poter sottoscrivere il contratto. In alcuni casi che il credito venga assicurato da compagnia assicurativa altrimenti viene bloccata la fornitura. Un'altra situazione grave e paradossale è che molte aziende avevano dei contratti con tariffe fisse sono state disdettate dai principali gruppi nazionali di fornitura di energia elettrica e adesso vi viene proposto alle condizioni, dicevo poco anzi, fiduzione e quant'altro la tariffa variabile e in questi casi i rincari rispetto all'anno scorso quando era una tariffa fissa sono veramente esagerate. Bisogna attendere che si concluda questo conflitto bellico e tutto quello che sta comportando compreso il contingentamento di gas e non solo, anche se la vediamo ancora lontana questa ipotesi. Nel breve quello che serve è che il governo nazionale e per quello che possa anche quello regionale intervenga in maniera più cospicua per le aziende energivore non c'è il credo di imposta che scade il 30 settembre e ci auguriamo che venga prorogato, però che vengano anche aumentato nella percentuale perché come è successo con il contributo sull'accise nel carburante i 25 centesimi più IVA sostanzialmente sono stati riassorbiti e tantissimo dall'aumento. Vorrei ricordare che se non ci fosse il contributo da parte dello Stato oggi un litro di diesel si comprerebbe due ore 10, due ore 15. Servono interventi maggiori, interventi massicci. Purtroppo c'è una politica nazionale e regionale che è distratta e presa dalla campagna elettorale. Mi sento di dire che se volessero fare realmente servizio per cittadini e imprese dovrebbero almeno per un giorno fermarsi di fare campagne elettorali, riunirsi, fare dei provvedimenti urgenti sia come giunta regionale che come governo nazionale e mettere mano dove serve attraverso queste agevolazioni e contributi a imprese e famiglie.